Se si desidera riattivare un token sospeso in ePassan Manager, iniziare facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Poi cliccate su Profili di accesso alla porta e continuate a usare il menu a tendina per trovare l'utente e selezionare la credenziale che volete modificare. A questo punto è sufficiente fare clic sull'opzione in uso accanto alla dicitura Stato. Infine, fare clic su Salva prima di uscire. Grazie a tutti.